Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di Mr Longo in vista di Crotone Avellino. Iniziamo subito con le domande, come sempre due a testa. Iniziamo da Giuseppe Rivadoti per la provincia KPR. Prego. Buongiorno Mr. Buongiorno. Siamo ancora mancano più di 48 ore alla prossima partita con l'Avellino. E' un incontro che, come tutti gli altri, ha la sua importanza. Vorrei dire qualcosa a proposito della conduzione della squadra fino a questo momento. Perché non si sa come interpretarla. E' il parco giocatore che non è ancora riuscito a metabolizzare il pensiero di Longo come allenatore. E' il Longo allenatore che non riesce a trasmettere il suo pensiero alla squadra? O c'è ancora da ritoccare qualche questione tecnica nell'ambito dell'organico? Allora, ringrazio anticipatamente tutti per le domande che mi farete. Io all'interno delle prestazioni che abbiamo fatto vedo tanto già di realizzato. Ovviamente il tanto di realizzato sta nei gol fatti, sta nella tenuta del campo, sta nella possibilità di, tranne in una partita, di essere stati competitivi contro chiunque. Cosa va migliorato? Va migliorato quello che ci siamo detti un po' dall'inizio dell'anno. Una fase di non possesso probabilmente condita da un po' di errori. L'organizzazione non è riuscita a mettere nella sicurezza alcuni errori individuali. Quindi su questo dobbiamo lavorare. Ma all'interno delle prestazioni, come l'ultima che abbiamo fatto, ci sono tanti motivi per poter dire che il lavoro ha avuto già una sua dimensione. Ovviamente nessuno è contento dei risultati di oggi. Noi stiamo lavorando affinché i risultati prossimi saranno più soddisfacenti. Ci sono dei risultati, delle cifre che avrebbero potuto essere a favore del Crotone e non in una sola partita. Però sta succedendo che il Crotone in vantaggio viene rimontato sia in casa e sia fuori casa. E nelle ultime tre partite è stata alquanto penalizzante perché subire dieci gol in tre partite è un peso enorme. Tutto questo si può incominciare a pensare che la squadra in difesa deve trovare un diverso assetto, il centrocampo è un diverso assetto perché i gol li fa. Noi siamo una squadra, il Crotone è una squadra che va in gollo con quasi tutti i giocatori. Però perché questa deficienza dal punto di vista difensivo e al centrocampo? Sì, quando lei mi chiede di poter variare qualcosa potremmo variare e non avere la stessa capacità realizzativa perché oggi tutto ciò che si evidenzia è soltanto ovviamente, visto il periodo, l'aspetto negativo. Siamo nel terzo attacco del campionato. Senza aver fatto chi ci precede, sono tutte squadre che hanno fatto gol e Ada. 5-4, vedi Benevento, vedi Vicerno. Noi questa cosa non l'abbiamo mai fatta. Quindi nell'arco delle partite siamo andati a segno con una certa continuità, portando anche tanti uomini a fare gol. In questo momento sono otti i calciatori che hanno preso parte alla fase realizzativa. Quindi cambiare significerebbe anche cambiare quello, che è la cosa che in questo momento va bene. Noi dobbiamo cercare di, più che cambiare, migliorare. Perché credo che l'assetto della squadra sia un assetto che ha visto delle negatività e quindi dei gol subiti quasi sempre, tranne in un'occasione sul rigore concesso a Vicerno, ci ha visto sempre stare in sovrannumero rispetto agli attaccanti avversari quando abbiamo preso gol. Quindi da questo punto di vista lì dobbiamo fare un lavoro importante, è quello che stiamo provando a fare, quindi di vincere i duelli, di essere capaci, qualora ci sono degli errori, di essere più organizzati. E la strada che io vedo è solo quella, perché altrimenti ci metteremo qui a dover sindacare o mettere delle X, come ho detto spesso, nelle conferenze pre-gara o post-gara rispetto a degli errori. L'allenatore deve essere in grado di fare con quello che gli si mette a disposizione il meglio possibile. Quindi la strada tracciata è molto chiara, è quella del lavoro, è ancora quella di provare a migliorare i calciatori che sono nella squadra e anche rispetto alla disposizione, perché lo sento spesso questo ragionamento. Noi in sette partite abbiamo variato quattro volte e all'interno della stessa partita come quella di domenica scorsa ci siamo posti anche con una linea difensiva diversa. Quindi non mi va neanche di sentire il fatto che non variamo. Siamo passati dal 4-2-3-1 al 4-3-3, siamo passati al 3-5-2 e questo bisogna essere un po' tutti quanti nella capacità di vederlo. Ci stiamo provando, stiamo provando a fare tante cose. Dobbiamo essere bravi a migliorare la squadra nell'aspetto difensivo. Però tante altre cose stanno andando bene, risalteranno agli occhi della gente quando si avrà con continuità i risultati che tutti speriamo. Grazie. Romano Megapress Buongiorno Romano Salve In queste ultime giornate ci sono state partite ravvicinate e che hanno affrontato tutte le squadre. Alcune hanno mostrato di essere già in linea per il campionato cioè pronte in tutte le fasi, hanno degli equilibri, hanno recuperato qualcosa. Il Licrotone invece, come si sta dicendo, ha dei momenti difficili. Quanto tempo lei pensa che ci voglia per avere la squadra a pieno ritmo? Secondo come la vuole lei? Ma guardi, io rispetto anche al tempo, noi avevamo chiesto di provato a rubarcene un po', invece siamo un po' in debito. L'unico debito che mi porto è sicuramente quello di non essere riuscito nell'immediato a dare le stesse soddisfazioni come nel precampionato e l'inizio del campionato stesso. E quindi adesso siamo un po' in debito con il tempo. La discriminante temporale, il cui mi chiede io, se sapessi con precisione quanto tempo ci vuole, sarei un mago e non sono questo. Io faccio solo una considerazione con voi. Manca tanto per non perdere la partita col Trapani? Manca tanto per vincere la partita col Sorrento? Manca tanto per vincere la partita con il Potenza? Cioè la realtà è macchiata da risultati non positivi, ma noi nelle tre partite, che vi ho detto adesso, dove abbiamo raccolto solo un punto, non meritavamo sicuramente molto di più per quello espresso. È evidente, chi non lo ammette non è corretto. Cioè noi a partita di Potenza, tutti quanti dicono che all'ultimo l'altra squadra ci ha messo sotto, facciamo il gol del 4-2, che è un'azione manovrata, la partita è finita 5 minuti prima che l'albito fischiasse. Cioè nell'ottica di cosa serve affinché Vitale facesse il 4-goal? Il 4-goal sono due centimetri, non so quanto recupereremo quei due centimetri rispetto a quella realizzazione. Siamo vicini, si vede, è evidente che la squadra non è una squadra in disarmo, è una squadra che è competitiva contro chiunque. In questo momento i particolari non ci stanno dando ragione. Dobbiamo continuare a lavorare, sarà una campana stonata. So che i ragazzi hanno disponibilità e dobbiamo cercare di portare dalla nostra i dettagli che in questo momento ci vedono non protagonisti. Ecco, il fatto di avere, è come se lei avesse due squadre nei 90 minuti. Una che gioca per vincere e vince, perché chiude praticamente il primo tempo con un buon gioco e anche un buon risultato. Nel secondo tempo sembra che sia una squadra che gioca a perdere, nel senso che subisce poi mille cose che non dovrebbe, insomma, come del resto sta dicendo lei, ci sono grandi sfilacciature. Lei ha detto io cambio spesso il modulo. Questo cambiare il modulo potrebbe disorientare, soprattutto quando poi fa le sostituzioni, cioè le cinque sostituzioni, e mettere in confusione i giocatori. Allora, riportiamoci agli elementi reali. Il primo dato è quello che la squadra va in vantaggio. E se la squadra va in vantaggio, significa che sta facendo meglio degli altri. Abbiamo parlato alcune volte che la squadra mantiene 45. Credo che in questo periodo la squadra è salita anche da quel punto di vista. La considerazione da fare è sempre la stessa. Guardando la partita di Potenza, quanto meritava il doppio vantaggio la nostra squadra? Lo meritava tendenzialmente. Stava facendo bene, è una partita aperta. Anzi, faccio una considerazione più giusta. I primi 15 minuti di Potenza sono 15 minuti dove il Crotone non ha fatto una buona gara. La gara del Crotone per i 15 minuti è stata molto timorosa. E meritavamo di poter avere anche lo svantaggio, visto la grande occasione che hanno avuto la squadra avversaria. Però poi ci siamo rimessi in carreggiata. Abbiamo fatto un calcio molto propositivo. Abbiamo preso in mano il gioco. Dopodiché le segnalo come abbiamo preso il secondo gol, dovrei segnalare come abbiamo preso il terzo, come abbiamo fatto quando ci siamo messi a 5 nella possibilità di fare il quarto. Tendenzialmente queste cose sono da lavorare, ma non le vedo all'interno di meccanismi a cui vogliamo dare per forza una valutazione che può essere la sistemazione in campo, la voglia. Io credo che in questo momento la squadra sta cercando di avere una sua identità per i 90 minuti. Lo fa spesso anche meglio degli avversari, ma in questo momento questo meglio non proietta la squadra a fare risultato pieno o addirittura a prendere qualcosa dal campo. Però se potessi fare una considerazione, e mi piace farlo con molta coerenza con voi e con lealtà, mi dispiace il fatto che non si evidenzi le cose che si fanno bene. Questo è un momento in cui bisognerebbe anche dire con onestà che noi perdiamo la partita con il Sorrento e non meritiamo di perdere quella partita. Non l'ho sentito da nessuna parte. Questa cosa è la cosa che secondo me manca per quanto mi riguarda e io lo riconosco al mio spogliatoio. I ragazzi in questo momento vivono soltanto rispetto alla negatività del risultato, ma la prestazione è col Sorrento. A me il collega è venuto a chiedermi scusa alla fine della partita, nel senso che mi ha stretto la mano dicendomi, ovviamente confortandomi, ma capendo che in quel momento non c'era una squadra che è stata superiore all'altra, non l'abbiamo addirittura perso la partita. Bisognerebbe evidenziare anche questo, perché altrimenti ci buttiamo nella situazione che tutto va male. Per me non è così. Ovviamente è la mia testa d'algine, credo di, spero che porterà i risultati sperati, però all'interno delle partite c'è già una squadra, lei mi chiede il tempo, quanto tempo ci vuole. Si vede che c'è una squadra che prova a giocare, si vede che c'è una squadra che è proiettata per fare delle cose fatte bene. Dobbiamo mettere a posto delle cose, le metteremo a posto e lo facciamo col lavoro, però prendiamoci all'interno anche delle sconfitte, qualora non siano meritati. Io ho sempre alzato la mano quando sono meritate. A Cava ho alzato la mano e ho detto non abbiamo fatto una buona gara. Onestamente, di chi ha vinto contro di noi, non ho visto che hanno fatto partite migliori di quelle che noi abbiamo fatto a Cava di Tirrene. Nessuno è venuto qua dentro a dire a voi non ci prendiamo i tre punti o il Crotone avrebbe meritato di più. A me piace continuare ad essere coerente. Quando si perde si gioca male, lo si dice, e l'ho detto in due circostanze, ma in altre cinque circostanze questa squadra è già a buon livello. Mi auguro che il livello che sta cercando di avere sia un livello che porterà presto anche ai risultati che tutti quanti speriamo. Grazie comunque. Buongiorno mister. Francesco Pitingolo, CN24. Parliamo della partita di lunedì sostanzialmente. Arriverà a Crotone un Avellino in cerca di riscatto sicuramente perché la classifica anche per loro non rispecchia le aspettative di inizio stagione come del resto lo è anche per noi. e quindi in cerca di una certa continuità. Il Crotone è vero, gioca bene, prima la mezz'ora, poi 45 minuti, addirittura ha giocato bene nell'ultima potenza i 70 minuti, ma poi ha questo crollo. Forse non pensa che sarebbe il caso di avere un Crotone meno bello, ma più concreto. Allora guardi, io le rispondo con una considerazione. Se si voleva solo concretezza non si chiamava Longo a dirigere il Crotone. Io ho una missione bella chiara e il Presidente me la conferma ogni giorno con la sua stima e con quello che vuole. Lo dice chiaramente quello che vuole. Vuole rivedere un Crotone che gioca a calcio e che faccia divertire. Ad oggi questo non succede per i risultati, ma la squadra è già sulla giusta strada secondo il mio punto di vista. Faccio un'altra considerazione perché più che leggo sento anche in questa sua considerazione anche noi non siamo partiti bene. Non siamo partiti bene, però cerchiamo di capirci quanto ci manca rispetto a quello che potevamo ottenere. Tre punti? Quattro punti? Perché se qua si pensa che questa squadra avrebbe dovuto avere dieci punti in più, quindici punti in più, stiamo prendendo in giro l'ambiente. Nessuno ha detto qui che bisognava primeggiare. Nessuno ha detto che si doveva vincere. Ovviamente tutti sogniamo, ma dobbiamo essere chiari perché nessuno ha preso in giro nessuno. Quindi a questa squadra in questo momento mancano tre o quattro punti. All'Avellino non so se mancano tre o quattro punti. Gli investimenti fatti quest'anno non sono gli investimenti degli altri anni, lo dice chiaramente il mio presidente. Abbiamo una strada, abbiamo tracciato una strada, c'è un programma e all'interno di questo programma c'è un allenatore che prova a lavorare per portare un'identità di gioco. Se dobbiamo portare soltanto pragmatismo, probabilmente io non sarei qui a parlare con voi. E in realtà è questa. E quindi snaturare tutto un progetto per sette giornate quando invece di in programma ne abbiamo 76 da fare insieme mi sembra un attimino riduttivo. Quindi ovviamente io devo essere bravo a legare il gioco anche ai risultati. E questo lo otterremo nel tempo. Però che io oggi mi mettessi qua a fare totalmente cose diverse da quello per cui sono stato chiamato secondo me sarei poco leale e poco corretto rispetto alla missione che mi è stata assegnata. Altra tegola si è abbattuta in settimana per... Mi riferisco ad Ovidzak senza Spina senza Vinicius come affronterà la partita mister Longo? Non so se Ovidzak sarà recuperato se sarà titolare insomma situazione un po' degli infortunati e qualora Ovidzak non dovesse giocare si giocherà sempre con l'unica punta Gomez in avanti oppure si è provato qualche altra soluzione in settimana. L'unica punta ma Tuminello mi sembra che stia giocando nelle ultime partite ma dietro Gomez? Sì ma anche questa considerazione facciamola tutte le considerazioni questa mattina perché mi va di dire cose che sento ma che ma Tuminello dietro Gomez ma a potenza quando avete visto Tuminello dietro Gomez? Dove? Cioè Tuminello cioè giocare con due punti in verticale o giocare con due punti orizzontali non capisco che significa una sola punta non certo Tuminello si è venuto a prendere la palla davanti alla linea difensiva Tuminello la palla più vicina che ha preso l'ha preso davanti al difensore centrale del potenza sempre costantemente poi svaria ma svaria per sue caratteristiche Tuminello ha fatto la seconda punta ma non è la prima volta che succede mi sento dire che Tuminello non è solo in questa domanda in generale voglio che siamo chiari altrimenti leggiamo cose che non esistono con Tuminello si gioca 1-1 ma non 1-1 da un centrocampista giunto se voglio giocare 1-1 metterò un centrocampista là sotto quando gioco con Tuminello gioco due punti gioco due punti reali e poi con due esterni che tendenzialmente sono anch'esse delle punte però non è snaturare Tuminello perché se anche nella testa di Tuminello passa che quando giochi in attacco fa altro tendenzialmente non è proprio così quindi quando giochi in attacco gioco con Tuminello noi giochiamo con due punte che si posizionano in campo e si può giocare con due punti o in orizzontale o in verticale per acquisire gli spazi in modo diverso ma sono comunque due punte detto questo il discorso infortuni è un po' strano quello che sta succedendo rispetto alla situazione di Vinicius ve l'ho detto già una settimana fa Vinicius non dovete considerarlo non so perché è arco temporale e quindi non voglio anche essere del tutto negativo ma l'arco temporale di Vinicius è un arco che non ci consente di pensare a un solo recupero attualmente quindi non lo considerate in lista tendenzialmente per gli altri sta succedendo che non ci sono degli infortuni reali perché Spina dagli esami strumentali non ha avuto nessun tipo di lesione e fortunatamente anche Ovizac dalla risonanza magnetica non ha nessun tipo di lesione c'è un affaticamento muscolare inteso come una contrattura e quindi probabilmente stiamo lavorando e pensiamo probabilmente di recuperarlo per la partita di lunedì non so se a pieno regime o per essere disponibile a meno nei convocati grazie a lei si si anche Spina è un po' più in vantaggio vediamo come va la settimana ma anche Spina non ha avuto assolutamente nessun tipo di lesione muscolare mister buongiorno Claudia Berlingeri Gazzetta del Sud mister però ascoltandola poco fa mi è venuto un dubbio che magari mi può chiarire ora lei diceva che i ragazzi stanno vivendo questo periodo con negatività guardando più le negatività e mi chiedo come mai visto che comunque lei dice che non bisogna guardare il risultato ma la prestazione e le prestazioni dicono che è un crotone che sta crescendo anche se poi comunque dalla dirigenza sì il presidente ha dichiarato una cosa poi il direttore generale dice che si punta ai playoff quindi poi ai tifosi arriva un messaggio diverso rispetto a fare un campionato tranquillo dove è la distonanza fra quello che dice il presidente e il direttore generale fare i playoff si possono fare i playoff anche da decimi e per fare per salvarti probabilmente ho sempre detto che in questo tipo di campionato e format se ti salvi probabilmente fai il playoff però magari voglio dire però detto questo e dobbiamo essere voglio dire siamo un po' tutti quanti coerenti e leali con quello che diciamo la realtà è che le aspettative soprattutto dopo aver visto la squadra inizialmente tutti quanti tutti quanti pensavamo di fare altro e diciamo che è quello che è successo per vedere una squadra ma dopo Altamura secondo me c'è stata una bella iniezione di fiducia ma quella fiducia l'ho detto prima sono stato molto chiaro quanti punti in questa sala ci aspettavamo di avere in più se sono i 3 o 4 che dice per il presidente che ringrazio anche per gli attestati di stima pubblici in questo momento sostenere non è una cosa da tutti e quindi lo spessore lo si vede in questo momento e allora si dice una realtà ci mancano 3 o 4 punti possiamo lavorare se ci aspettavamo 10 e quindi essere i primi e ci stiamo prendendo in giro e credo che non lo dica neanche il direttore quindi io non vedo nessuna distonanza noi puntiamo a fare il massimo abbiamo detto questo partita per partita ovviamente oggi potrei essere attaccato sul massimo per il rendimento che la squadra ha avuto detto questo torno al discorso perché la squadra è normale che la squadra vorrebbe produrre in più è normale che all'interno della squadra ci sono calciatori che hanno visto ben altro crotone come ci sono calciatori che non hanno mai visto i crotoni cioè nel senso che ci sono un mix di calciatori di una caratura impressionante anche sull'aspetto dell'esperienza è un mix di calciatori che ha il primo impatto quindi noi dobbiamo essere bravi ad unire questa situazione a scrollarci di torso delle aspettative ma detto questo io non devo fare altro che provare a riempire quei dettagli che sono mancati per il risultato perché in realtà la squadra non sta giocando male ma quando dico non sta giocando male dico una situazione che rimane in campo è competitiva riesce a mettere in difficoltà gli avversari in questo momento alcune situazioni non ci portano a fare il risultato io devo lavorare su quello e non mi va però di incominciare quella tremenda situazione di distonanza invece io vedo una società unita in tutto in tutte le componenti più importanti che ha chiarito se parla il presidente probabilmente la linea tracciata è quella del presidente ma a direzione generale io non vedo una direzione generale che parla in modo diverso fare i playoff non ha detto vogliamo fare i playoff da secondi da terzi ha detto vorremmo fare i playoff io direi anche di più vorrei migliorare l'anno scorso ad esempio non so se rendo l'idea sono obiettivi però che si raggiungono nel medio nel lungo non lo so non in periodo in cui lavoriamo altra considerazione se sono qui con voi dopo queste partite probabilmente perché c'è chi giudica che il lavoro si sta facendo allora ascoltatemi la squadra lavora se sono qua e continuo a lavorare come mi è successo nel passato è perché chi viene a campo e deve giudicare il lavoro dell'allenatore che non è soltanto frutto del risultato vede una squadra che lavora credo che ci sono già dei piccoli risultati raggiunti da tutti non da me se volete ve li dico tutti però non mi piacerebbe mettermi qui a dire abbiamo fatto esordire Guerini Ovizzac oggi per tutti quanti voi un calciatore di caratura impressionante guardiamo la storia di Ovizzac abbiamo ritrovato Schirò in una maniera eccezionale calciatore secondo me troppo qui messo e appesantito nelle ultime due settimane con Vinicius messo fuori dai giochi e anche questo l'ho visto poco e l'ho sentito poco perché probabilmente altre parti l'avrebbero scritto per dieci volte consecutive che ci manca il calciatore più rappresentativo al centrocampo e non avete sentito mai l'allenatore lamentarsi su nulla infatti abbiamo recuperato dei calciatori abbiamo rimesso a nuovo dei calciatori che probabilmente non si pensava che fossero così forti come si diceva cosa manca e se manca soltanto il risultato avete ragione io non devo neanche stare qui a parlare perché quando parlerò quando avrò i risultati e vi farò vedere che la squadra lavora bene ma questo è nel futuro io mi posso concentrare a dirvi che c'è una chiarezza unica vedo lealtà vedo coerenza vedo una società allineata vedo un allenatore allineato con la società e stiamo provando a fare il meglio possibile ad oggi non l'abbiamo ottenuto ci proveremo con tutta la nostra forza Claudia a provare a portare i risultati sperati no mister è un'occasione per riportare quello che poi è anche la voce dei tifosi giusto per insomma per chiarezza mister torniamo alla partita di lunedì sera che gara si aspetta e soprattutto come sta la squadra in generale se ci sono altri infortunati rispetto a quelli che già sono sono out per la partita come sta la squadra in generale visto che è una partita che si carica da sé no la squadra allora facciamo un piccolo report così riesco a chiarire questo aspetto abbiamo ho saputo ieri sera di una deficit c'è una lesione muscolare per trauma diretto da parte di sala che esce malconcio in uno scontro di gioco col potenza e ieri addirittura gli è stato diagnosticato una lesione cosa abbastanza non naturale nel senso che non viene da un trauma diretto da un contatto con l'attaccante del potenza e su questo continuo a fare quella mia piccola battaglia che è un po' di tempo da questa parte che dico che alcune cose vanno un po' tutelate in più alcuni casi che già abbiamo avuto spina e altre situazioni da contatto mi auguro che nel tempo le ammunizioni vengono date più per questi falli e non tanto per commenti all'interno delle partite ci si ferma troppo a fare altri tipi di considerazioni quindi abbiamo questa situazione la giunta di sala che è il vero infortunato in questo momento della settimana e proveremo a recuperare gli altri calciatori quelli che avete detto poco anzi Ovicac Espina sopra tutti come arriviamo alla partita arriviamo con una squadra che ha voglia di riscattarsi di provare ad accelerare quel processo che ci possa vedere protagonisti finalmente in un risultato che possa dare soddisfazioni soprattutto alle persone fuori ma per poter dare soddisfazioni a tutti coloro che lo meritano i ragazzi devono incominciare a pensare che lo meritano prima loro ancora degli altri nel senso che è proprio per noi che dobbiamo incominciare a giocare dobbiamo incominciare a stringere un po' più i denti e loro mi risponderanno che ce la stanno mettendo tutto perché sono convinto e loro vuol dire che quel tutto ancora non basta e dobbiamo fare ancora qualche qualcosa in più affinché regaliamo le gioie a tutti e soprattutto ce ne prendiamo qualcuno anche noi perché vi assicuro che si lavora sodo e chi lavora io dico sempre che poi a chi lavora aspetta premio grazie comunque buongiorno mister Luigi Saporita Sferio Gazzetta Crutonese mister faccio una premessa io di solito faccio domande telegrafiche ma oggi no perché mi serve un po' di ragionamento quindi lo chiedo pure a chi mi ascolta al suo fianco io ho fatto fatica a capirla in un paio di passaggi in questa conferenza stampa mister ma davvero ho fatto fatica nel senso che lei prima parlando col collega ha detto io sento leggo che è continuato a mettere davanti situazioni negative e non quelle positive poi le sento dire che Vitale se fa gol da due centimetri la partita cambia mister questa è una cosa negativa non è una cosa positiva sbagliare un gol da due passi dalla porta è negativo sul 3-1 prendere due gol col potenza negli ultimi dieci minuti non è una cosa positiva è una cosa negativa mister se poi vogliamo cambiare le cose positive in cose negative o viceversa allora ognuno fa quel che vuole è come se io andassi a scuola prendo 4 in latino in italiano matematica e greco poi prendo 7 in religione però hai preso 7 in religione ma i voti negativi non li vediamo lei ha detto abbiamo segnato 12 gol ma forse ha dimenticato che ne abbiamo presi 14 la Juventus è la squadra che ha beccato più gol di noi insieme con tante altre e questi sono fatti negativi mister cioè non è che noi vogliamo mettere davanti l'aspetto negativo in serie A e serie B ci sono squadre che giocano un bel calcio le ricomuna su tutti il Venezia è ultima in classifica gioca un bel calcio Di Francesco probabilmente lo cacciano ma gioca un bel calcio però alla fine quello che conta sono i risultati e le cose negative perché se fanno quelle schifezze in difesa il Venezia è giusto che prendano i gol e questo è un discorso che vale per tutti i campionati di calcio dalla prima dalla serie A fino alla terza categoria quindi diciamo che le cose negative ci sono e le dobbiamo pure evidenziare è normale che in questo momento sono più le cose negative che le cose positive lei ha una media punti di una partita è una media retrocessione è una media retrocessione sette partite quanto ancora vuole possiamo andare sulla domanda poi finisco sull'altra volevo che un po' mi spiegasse questa cosa lo spiego subito non l'ho capito e poi gli dico la questione tecnica dei due attaccanti grazie io le dico soltanto che innanzitutto non devo insegnare a nessuno il mestiere e nessuno lo deve insegnare a me questo è molto chiaro voglio dire io ascolto lei io non ho detto che lei non deve evidenziare gli aspetti negativi non mi sono mai permesso ho detto che lei fa un cattivo lavoro se evidenzia solo il fatto negativo non ho detto altro perché come dice le votazioni non abbiamo preso sette in religione abbiamo preso otto in latino e probabilmente abbiamo preso quattro in matematica perché fare dodici gol in questo campionato ed essere il terzo attacco del campionato non è un fatto negativo non è un fatto da religione è con tutto il rispetto per i professori di religione sta dicendo una cosa inesatta fare tutti i gol che abbiamo fatto noi e avere questa costanza ad andare in gol con otto calciatori diversi è qualcosa di impressionante sotto tutti gli punti di vista quindi su questo dobbiamo dare atto di questo fatto che poi siamo una difesa che non difende bene che stiamo prendendo gol che possono essere evitati ovviamente ci prendiamo quel quattro io non ho detto di non segnalare il quattro e tre lei sta segnalando solo il quattro e tre e lo dimostra la domanda che ha fatto e punto è questo è il problema atavico che c'è i punti retrocessioni a sette giornate dalla fine se la società reputa che ci sono punti retrocessioni prende dei provvedimenti i punti alla fine e la media la vedremo alla trentottesima partita di campionato punto l'idea che c'è c'è un programma un progetto che baserà sul gioco il proprio successo se oggi non si vede che in sette partite la squadra ha un'impronta ha un'identità gioca a calcio vuol dire che si vuole evidenziare solo un fatto negativo io non posso cambiarla da questo punto di vista proverò ovviamente a cambiare il corso della mia fase difensiva ma sul resto le posso assicurare che ci sono delle situazioni positive che andrebbero sostenute perché quando leggo è il solito crotone a potenza e andiamo a potenza quando una squadra che tre giorni prima aveva preso tutti i due gol e quindi era una situazione particolare per l'ambiente squadra ottima in cui noi facciamo tre gol e quindi facciamo i tre gol li mettiamo in difficoltà significa che la squadra ha fatto una buona partita poi la difesa male e poi non ho detto che Vitale ha sbagliato un gol da due centimetri ho detto che per due centimetri la palla è andata fuori perché Vitale tira da 18 metri quindi giusto per essere chiari e non dire cose inesatte Vitale tira una palla da 18 metri e va di due centimetri fuori quando mi è stata fatta la domanda cosa deve cambiare deve cambiare che quei due centimetri li dobbiamo migliorare e poiché sono due centimetri noi li miglioreremo li miglioreremo anche con considerazioni del genere che sono deleterie sono e mi auguro che la stessa considerazione perché io mi ricordo quando sono venuto qua lei era messo collocato di fronte a me e mi disse guarda che forse probabilmente quando andrà nello spogliatoio dovrà avere qualche notizia perché a noi ci giunge qualche notizia la notizia era che dovevo continuare a lavorare che quella squadra sarebbe arrivata sesta e all'ultima partita di campionato si è giocato il terzo posto con il Pescara ed è stata la squadra che nel 2023 ha fatto più punti di tutti io mi auguro che il lavoro sodo una società che sostiene una squadra disponibile possa portare le stesse cose ovviamente contestualizzando quello che siamo oggi non siamo il crotone di sempre siamo un crotone che ha provato a riportarsi in una progettualità dove l'economia sia a salvaguardia innanzitutto della missione azientale che è quella di cercare di fare un bel gioco e poi di progettare una vittoria punto questa è la realtà a me piace questo suo modo di rispondere perché è giusto che lei debba rifondere il suo lavoro la sua squadra la società e tutto quanto è giusto fa parte del suo ruolo che deve recitare ma da questa parte noi dobbiamo fare pure un'altra cosa noi dobbiamo pungolare noi dobbiamo come dire stimolare affinché si cambi questo trend lungo si cambi perché sennò così non si va da nessuna parte la seconda domanda per quanto riguarda l'aspetto tecnico dal veder giocare Tuminello 20 metri dietro Dietro Gomez e lei dice due giocatori in verticale sono sempre due punte ma io finora ho visto solo giocare Gomez davanti io Tuminello non lo vedo in campo mister non lo vedo ma quanti tiri in porta fa Tuminello allora Saporito adesso devo incominciare ad andare sul dettaglio e mi dispiace oggi incominciare a mettere fuori i numeri perché la mia intenzione è stata tirata di Aresnello però i numeri li legga tutti perché sono pure quelli che non vanno bene fra Picerno e Sorrento fra Picerno grazie a lei fra Picerno e Sorrento Tuminello ha tirato sei volte in porta di cui due volte a porta vuota contro la Jebbis sei volte in porta un attaccante in due partite dove non abbiamo raccolto punti ha tirato sei volte in porta contro il Sorrento situazione di gioco dato SIX andate a vederlo non è pubblico se volete ve lo pubblico situazione da cross da parte del Crotone 32 situazioni Sorrento 4 32 situazioni in cui per 27 volte io avevo due attaccanti all'interno dell'area di rigore stiamo dicendo delle situazioni io perciò le dico purtroppo se devo essere qui e non rapportarmi ai dati reali non ci vengo nemmeno perché in realtà noi dobbiamo dire ciò che si vede davvero non cosa il risultato ci fa dire che Tuminello non ti re in porta è un'eresia è un'eresia 20 metri dietro Gomez ma quando mai volete vedere le disposizioni medie che abbiamo avuto nelle partite in cui Tuminello e Gomez hanno giocato giocano a 5 metri di distanza alcune volte cioè questo è il dato medio ma non lo dico io non sono i miei tracciati sono i trattati CPS di SIX e di Wisecout non esiste dite delle inesattezze ovviamente l'unica inesattezza che non dite è quello che i risultati valgono tutti nel calcio per fare risultati bisogna lavorare punto credo che sia la proporzione diretta per quello che dobbiamo avere poiché io sono sicuro che noi stiamo lavorando sono anche sicuro che faremo risultati però altrimenti si vedono ripeto io continuo a dirlo vogliamo vedere soltanto le cose negative continuiamo a vedere le cose negative per quanto mi riguarda poi Berlingieri Claudia mi dice miss perché la squadra è soltanto sul negativo ma pensate che l'aspetto mentale emozionale di una squadra lo crea soltanto l'allenatore voi pensate che l'allenatore con tre ore che sta con i propri calciatori quattro ore che sta con i propri calciatori è l'unico elemento in una società tecnologica dove i social le notizie tutto ciò che circonda l'ambiente calcio determina anche la mentalità e l'emozione del calciatore sia l'unico a determinare in un ambiente l'aspetto emozionale e pensate di aver preso un mago o un intrattenitore che non ha questi poteri ma non c'era nessuno questo tipo di potere nessuno ambiente dell'eterio risultati dell'eterio noi cercheremo con tutte le nostre forze di cambiare il corso degli eventi ma non mi dite che non conoscete che emozionalmente anche voi contribuite contribuite all'assetto mentale di chiunque partecipa a questo giochino e il giochino al massacro a me non piace a me l'ho detto dall'inizio con voi sarò sempre coerente e corretto però mi dovete portare dati veri se parliamo soltanto del risultato io chiedo scusa a tutti i risultati non ci sono e sono inequivocabili ma se dobbiamo parlare e programmare quello che si sta vedendo dobbiamo fare delle discussioni che abbiano un senso compiuto e abbiano anche un valore di competenza altrimenti ci diremo delle bugie a me non piace lavorare nella finzione